Brindisi ha finalmente il suo stadio, arriva il parere positivo da parte della Commissione Pubblico Spettacolo, questa volta del Comune di Brindisi, avvenuta nel pomeriggio di lunedì dopo un sopralluogo durato circa 4 ore, una lunga attesa che ha permesso però di avere il via libera per far disputare regolarmente alle 18.30 la sfida contro la Juve Stabia che sarà l'esordio davanti al proprio pubblico per la squadra adriatica. Un match che però dovrà essere con una presenza limitata di spettatori sugli spalti, circa 4.600 il compito totale, compresi 500 biglietti per la tifoseria ospite. La grande soddisfazione ovviamente da parte del sindaco Marchionna e del presidente Arigliano. La Commissione si è espressa favorevolmente anche se con capienza ridotta, si giocherà a Brindisi, Juve Stabia finalmente al Franco Fanuzzi. Per chi magari non riuscirà a trovare il suo tagliando contestualmente chiediamo scusa ma quest'anno bisognerà adoperarsi sin da subito per evitare di rimanere senza tagliando. È bello che sia così perché la corsa al biglietto fa affezionare ancora di più la gente. Avremo ovviamente una limitata capienza, credo se non ricordo male, di 4.584 più i posti per i giornalisti e quelli per persone diversamente abili. Questo rinnovato stadio che peraltro vorrei sottolineare subito dopo questa partita continuerà ad essere sottoposto ad ulteriori interventi per tutto quello che è previsto da realizzare entro poi la fine di gennaio e il primo giorno di febbraio. Rappresenta un simbolo di questa voglia, di questa volontà complessiva della città di ritrovarsi intorno a un simbolo che in questo caso è lo stadio e la scuola di calcio che ritorna nei livelli nazionali dopo 33 anni.